Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini si domanda ironicamente chi comanda tra capitano e generale. Sapete che lui candida il generale Vannacci, lui viene soprannominato il capitano, dice beh a questo punto troveremo un colonnello. Così il ministro delle infrastrutture e vice premier Salvini ha votato alle 15 nel seggio milanese di via Martinetti, uscendo a risposta ad alcune domande dei giornalisti rompendo il silenzio elettorale. Ha una domanda se lui che è soprannominato il capitano negli ambienti leghisti sarebbe disposto a fare da tendente di Vannacci, Salvini ha risposto no. Poi l'importante è la fanteria, io ho fatto il fante, vanno bene i generali, vanno bene i capitani, l'importante è la fanteria, l'importante è il popolo e penso che stiano tornando alla Lega tanti che non hanno votato la Lega alle ultime elezioni politiche per punirci dell'esperienza al governo con Draghi, col PD e con i 5 Stelle. Adesso ci riconoscono coerenza, lealtà e coraggio e penso che alla faccia di tanti gufi e radical chic il generale Vannacci in tutta Italia sarà uno dei più votati in assoluto. Incalzato su chi comanderà nel carroccio Salvini ha risposto non so, in mezzo c'è il colonnello, sceglieremo uno che sta a metà. Grazie a tutti e arrivederci a presto.